Salve a tutti, io mi presento, sono Luca Raimondi, sono uno dei soci fondatori di Agri Geodrone Group e noi ci occupiamo sia di servizi, come vedete, con droni in agricoltura, quindi solo servizi di applicazione in agricoltura e ci occupiamo anche, in questo caso, anche della vendita di attrezzature, eventualmente se ci fosse qualcuno interessato siamo anche tecnici in campo qualificati per la messa in campo di queste tecnologie che sono, a mio avviso, sembrerò di parte, ma sono fantastiche come utilizzo, in primis per quanto riguarda la sicurezza e poi per quanto riguarda anche il risultato finale. Vi faccio una piccola breve storia di quello che è l'Agri Geodrone, noi siamo nati cinque anni fa, l'azienda è composta da due barra tre persone perché è un'azienda totalmente familiare, quindi siamo io, mia moglie e mio figlio che è ancora uno studente di agraria, ma è uno studente. Non siamo di tradizione, e non è un'offesa, contadina, ma veniamo da tutt'altro mondo. Questo anche ha fatto sì che la collaborazione, la sinergia con Arvensis, in questo caso Carlo Stagni e Coppert Italia, rappresentata qui da Nicola Vicario, abbia fatto sì di creare un gruppo di lavoro che agli occhi degli agricoltori o di chi vedete a lavoro abbia un'affidabilità maggiore. Quindi ognuno si occupa del suo campo con una qualifica ben precisa. Cinque anni fa noi siamo nati facendo delle prove, quindi non sapevamo cosa dovesse dire l'agricoltura, non sapevamo cosa dovesse dire ai rilievi, tantomeno applicazioni. Siamo partiti con calma, piano piano, ci siamo resi conto che il rilievo è un qualcosa di particolare, quindi che si presta a varie scuole di pensiero, poi voi tecnici che conoscete queste cose lo sapete meglio di me. L'applicativo è diverso, l'applicativo è immediato, l'applicativo fa vedere un risultato finale. E' una cosa che a noi ci ha dato molta spinta e infatti abbiamo investito parecchio in questi anni. In azienda abbiamo sette droni e di cui cinque da applicazioni e due da rilievi. Cosa posso dire? Cosa posso dire?